Buonasera a tutti, siamo qua io, Babbe, Lavalle e Simone che fa il video. Tutti ubriachi a mondo, con giocane, bastardi, vabbè, non ho giù altro. Sono gli due o tre tedeschi che rompono il cazzo. Siamo venuti bene, tutti noi in realtà non bevono un cazzo, sapete perché? Noi beviamo vino, e birra, e beviamo il traccio. E Babbe vuoi dire qualcosa, Babbe? E sono nel fuori il coro e cantiamo tra voi. A noi Vincentini siamo a bevitori. Siamo quasi a tre punti. Davanti a cinquanta stanze, noi canteremo, noi Vincentini siamo a bevitori, e tutti quanti usciranno e tutti quanti noi romperemo i coglioni. Andiamo fuori. Però c'è l'altro vino, Babbe. Però c'è il cameraman, Babbe. Ma hai lasciato solo questo gallino lì o altro? Dimmi quali dobbiamo sapere? Bevo, bevo. Andiamo fuori. Così fai il video un attimo. Vai. Bevo, 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 bevo. Mi ubriaco e sono felice anche se fai il vomito. Non ho in letto tre. Eh, sì. Svegliere. Svegliere. Grazie.